Salve a tutti, ho pensato di raggiungervi con questo strumento per parlarvi di alcuni aspetti dell'ambiente di apprendimento ed modo che ritengo essere utili per un migliore utilizzo. Tenete conto che di recente ho attivato un nuovo account, Alunno Controllo, che mi sta consentendo di conoscere meglio l'ambiente di apprendimento dal punto di vista dello studente. Infatti, il pannello docente e il pannello studente sono diversi. Entriamo adesso nella piattaforma ed modo utilizzando proprio quest'account, Alunno Controllo. Login Mi interessa mostrarvi subito una funzione, secondo me molto importante, il filtro. Seleziona i messaggi secondo criterio. Cliccando è possibile accedere ad un menu che ci consente di scegliere quali messaggi visualizzare. Le consegne Le consegne I testo quiz I sondaggi I sondaggi O qualunque altra cosa sia per noi importante visualizzare. In questo modo ci orienteremo meglio nel flusso di messaggi, consegne e test che dobbiamo gestire. Importante Importante è sapere che per tornare alla visualizzazione complessiva devo cliccare la X da conoscere Da conoscere è anche la funzione del calendario che ci consente di visualizzare le consegne. Questa è la consegna relativa ai software per esercitarsi Oppure, se torniamo alla settimana precedente, possiamo visualizzare, in data mercoledì 26 marzo, le consegne relative all'audiostoria del gigante egoista. Possiamo aprirle anche direttamente da qua, cliccando sulla consegna. Il gigante egoista Torniamo alla home, cliccando sulla X in alto. Un'altra icona che ci porta in un ambiente interessante è questa, l'icona che registra le nostre attività. Entrando in questa zona abbiamo la possibilità di vedere tutte le attività che abbiamo svolto o non svolto e anche di visualizzare i risultati dei nostri test e gli eventuali errori. Cliccando sul test di comprensione potrò appunto visualizzare le diverse domande e risposte. Torno sulla home. Tenete conto che l'icona del registro è la stessa che è presente nell'ambiente del docente ma che rimanda a un vero e proprio registro, una tabella contenente i nominativi di tutti gli studenti, le attività svolte da ciascuno e i risultati di ogni test svolto. Altra icona interessante è lo zainetto. Di questa abbiamo già detto qualcosa. Volevo ricordarvi che è lo spazio che gli alunni possono utilizzare per custodire eventuali file. Elimino adesso questo che io ho importato per prova. Gli alunni potranno in futuro soprattutto inserire dei documenti o dei link. L'importante è che non superino il peso di 100 megabyte oppure salvare in quest'ambiente i materiali che li vengono inoltrati dalle insegnanti e che ritengono interessanti. Vediamo. Ipotizziamo per esempio che si voglia custodire all'interno dello zainetto la storia di questa settimana. Accanto al file è presente appunto l'icona dello zainetto. Se io ci clicco andrò a ritrovarmela all'interno dello zaino. Questa settimana infatti è la volta della lettura della storia della cicala e la formica. Ne avremo a disposizione due versioni, una completa e una breve. Gli alunni sceglieranno la versione più adatta tenendo conto delle personali competenze di lettura. Questo spazio dunque è utile perché il bambino possa custodire tutte le risorse secondo lui interessanti. Torniamo in home. Adesso spendiamo due parole sulle consegne. rivisitiamo le procedure. La consegna di questa settimana viene data con l'audio. L'abbiamo definita appunto audio consegna. Ciao bambini, siamo arrivati all'ultima attività del nostro progetto di classe capovolta. Dopo il video è l'audio storia e la volta della lettura. Interrompo perché mi preme semplicemente ricordarvi che dopo aver sentito la consegna e scelto il materiale, quindi la storia da leggere adatta a ognuno, bisogna ricordarsi sempre di informare il docente cliccando questo tasto. Senza aver cliccato questo tasto il docente non sarà informato del fatto che noi abbiamo preso visione dei materiali inoltrati. Passiamo adesso ai quiz. Visualizziamo il test di comprensione 1. Take quiz. Questa volta, start, questa volta si tratta di un test con il quale dobbiamo abbinare dei pezzi di frase fino a ricomporre le frasi corrette. In estate la formica ha fame e non ha cibo. Si procura il cibo per l'inverno. Trascino il pezzo corretto accanto alla lettera che riporta la radice corretta. In estate la cicala canta. In inverno la formica mangia tutta contenta nella sua tana. In inverno la cicala ha fame e non ha cibo. Quando ho completato il test volevo ricordarvi che è necessario cliccare il tasto di trasmissione. Nel momento in cui premo questo tasto mi viene richiesto se sono sicuro di voler inviare il quiz. A questo punto posso cliccare su cancella e ritornare ancora una volta sul quiz e ricontrollare. Una pratica molto importante da trasmettere ai bambini. La verifica. Dopodiché tornerò ancora sulla trasmissione e potrò dire yes, trasmetti. A questo punto mi viene domandato che cosa penso del quiz. Ci sono tante faccine con tanti messaggi diversi. Le abbiamo viste anche con i bambini e abbiamo consigliato loro di utilizzare la prima, quella felice o l'ultima, per evitare di complicare la procedura. Clicco una faccina e a quel punto mi è possibile visualizzare i risultati. Ricordiamoci che qualora mi dimenticassi posso sempre tornarci dal registo. Una volta che ho visualizzato i risultati posso tornare in home e procedere con il secondo test. A questo punto penso di aver concluso. Vi ricordo semplicemente in breve le cose e le informazioni che vi ho dato. Filtrare la possibilità di filtrare i messaggi con dei criteri. Solo consegne, solo test, solo sondaggi e così via. Visualizzare il calendario. Visualizzare le attività svolte. Custodire i propri materiali. Per quanto riguarda le consegne, l'importanza di trasmettere l'informazione alla docente, ho visto i materiali, ho ascoltato le consegne e poi nel momento in cui facciamo i test ricordarci di trasmetterli ma sempre dopo averli verificati. A questo punto ho davvero concluso. Non posso che cogliere l'occasione per ringraziarvi tantissimo della vostra preziosissima collaborazione per la riuscita del progetto. Spero di vedervi presto. Arrivederci.